La gente di questo quartiere, la giornata non è completa se non ha una nuova storia da masticare. Tutto il quartiere sa chi è a bus. Togliti dai piedi o rimpiangerai di essere venuto. E ti raffari i soldi! Hai chiesto la sua protezione? Non è stata una nostra scelta. Cos'è questa storia con le figlie di Asil? Non ne so niente. Deve allontanarsi da mia figlia. Dimentica quella ragazza. In prima visione assoluta. The Allies. Martedì alle 21.20, Rai 4. La guardi, la vivi.